Dai dati che abbiamo analizzato, che sono statisticamente disponibili, emergono alcune evidenze. La prima è che assistiamo, da una parte è già stato rilevato anche dal Comune, al calo delle liste d'attesa, ma anche a un progressivo abbandono dei bambini dagli 0 ai 3 anni dei servizi educativi. Ci sono alla fine più posti disponibili di quanti non vengono saturati dalla presenza dei bambini nelle strutture. Questo significa che c'è molto abbandono e anche il fatto che calino le liste d'attesa senza crescita dell'offerta educativa, ma in presenza di una sostanziale stabilità dell'offerta educativa, vuol dire che molte famiglie non sono più in grado di far fronte ai costi per poter mandare i propri bambini al nido, per poter mandare i propri bambini in queste strutture. E questo è un problema. Il secondo dato che rileviamo è che Parma e il suo territorio, a differenza di quanto avviene per esempio nella media regionale, è un comune ed è un territorio in cui c'è una fortissima gestione affidata dei servizi all'infanzia. Cioè siamo nell'ordine del 43% della gestione affidata contro il 23% di media regionale e siamo a una struttura, diciamo, gestione diretta del pubblico che è 10 punti percentuali in meno rispetto alla media regionale. Questo determina una minor spesa di Parma e del suo territorio per questi servizi. Quindi noi proponiamo molto schiettamente un nuovo patto per l'educazione in questo territorio in cui a fronte di una minor spesa, che è evidente perché un posto pubblico a nido costa 9.000 erotti euro e a gestione affidata in struttura privata costa 6.000 erotti euro. Quindi c'è una differenza notevole. Che una parte di questa minor spesa venga reinvestita sia per sostenere la domanda, cioè sia per dare contributi e dare comunque sostegno sgravio alle famiglie che sono più in difficoltà e che sono state più colpite dalla crisi e che hanno la necessità di mandare i loro bambini comunque nelle strutture educative. Dall'altra parte per qualificare ulteriormente, omogeneizzare ulteriormente questi servizi, casomai diversificando anche il tipo di proposta, investendo appunto in qualità, investendo in formazione degli operatori e investendo in omogeneizzazione dei diritti degli operatori perché non possiamo avere nelle stesse strutture di questa città, di questo territorio, educatori che hanno diritti di serie A o quasi e educatori che hanno diritti di serie B, insomma. Ecco, perfetto.